Una foto non è soltanto frammento di immortalità, è anche e soprattutto lo specchio di una emozione profonda ed invincibile. Giuca quell'emozione la cattura e ne rapisce il segreto. L'intento è di farne poesia di quel segreto, ed emozionare un pubblico di curiosi, di indecisi, di viaggiatori alla ricerca di un posto dove fermarsi, ad ammirare. Giuca non fotografa il mondo, lo costruisce scegliendo con cura i particolari e gli offre una precisa identità. Ogni soggetto si fa scena a sé e si racconta, raccontando. Narra una storia che di colpo rapisce la storia di chi è lì a guardarla, quella storia, condensata in un gioco di colori, e la porta dentro sé, riscrivendone le pagine. C'è tanto di inespresso tra quelle luci e quelle ombre, in prospettive surreali sapientemente ideate per risvegliare emozioni e sentimenti, attraverso il canale della percezione prima, delle sensazioni poi. In un certo senso, un filosofo della fotografia, ma soprattutto un instancabile appassionato della fotocamera. Per lui, una bacchetta magica. Per lui, una bacchetta magica.